Ti prego, rispondimi, Yushiko! Dove sei, Yushiko? Chi siete voi? Che cosa volete? Io... devo andare a salvare mia figlia? Non intromettetevi! Chi siete voi? Maledetti! Anche voi volete distruggere la mia piccola felicità? Porre fine alla gioia che riempie la mia casa? E togliermi il calore che mi dona l'affetto della mia famiglia? Non sottovalutatemi. Io ho un uomo così piccolo. Proprio nella mia inferiorità riesco a trovare il coraggio di combattere. Anche se la mia vita dovesse finire qui, io vi sfido a farvi avanti. Venite! Cari che scodinzolate al potere dello Stato! Anch'io ho partecipato alle sommosse degli anni 60 e 70. Vedrete! Vedrete di che cosa sono capace! Ryoko! Yoshiko! Datemi la vostra forza! La forza con cui quest'uomo così debole possa combattere e proteggervi! Yoshiko!